Disclaimer-one, i contenuti di questo video sono esposti a scopo puramente informativo e didattico. Oggi vi mostro come è possibile aggiornare il firmware del nostro Flipper utilizzando l'app ufficiale. Nel mio caso utilizza Android, ma la stessa procedura si fa attraverso l'iPhone e vi voglio mostrare sia come aggiornare il firmware stock, quello ufficiale, che è un firmware non ufficiale, come nel caso di Rogue Master o Unleashed. E nel mio caso userò Rogue Master. Siccome aggiornare il firmware ufficiale attraverso l'app è facilissimo, ve lo mostrerò alla fine, concentriamoci adesso invece su un firmware non ufficiale, come nel caso appunto di Rogue Master. Vi ho mostrato in un altro video come è possibile installare l'app e collegarla attraverso il Bluetooth al nostro Flipper. Assicuratevi di avere il Bluetooth attivo andando su Settings, Bluetooth, deve essere su On. Questa è l'unica cosa che importa, ovviamente deve essere attivo il Bluetooth anche sul cellulare. Dopodiché dal cellulare andate sul GitHub di Rogue Master o Unleashed, andate all'ultima versione, vedete Latest, scorrete, andate fino a quelli che sono i file da scaricare, sotto Assets, e andiamo a scaricare il file TGZ. Infatti il file .zip è quello che si utilizzerebbe per l'aggiornamento manuale mostrato in un altro video. Carichiamo dunque TGZ, file scaricato, 1.70.000, perfetto. Fatto questo, apriamo l'app Flipper, ci assicuriamo che sia connesso e sincronizzato, e a questo punto nella prima pagina vediamo che c'è un bottone Install, non clicchiamolo, perché questo si riferisce allo stock ufficiale. Nel cliccarlo andremo a sovrascrivere il firmware Rogue Master con il firmware stock, e non è quello che vogliamo. Quello che vogliamo noi è installare un firmware custom utilizzando il file che abbiamo appena scaricato. Per questo dobbiamo andare a selezionare il file, allora clicchiamo su Release, che si riferisce a quindi la versione ufficiale stabile, e vediamo che ci sono altre opzioni, c'è Release Candidate, che sia una versione diciamo stabile ma ancora di prova, c'è poi quella di sviluppo che è molto instabile, e poi c'è Custom, ed è quello che interessa a noi. Noi clicchiamo su Custom e ci darà la possibilità di scegliere un file. Clicchiamo Choose File ed ecco che in mezzo al tutto troviamo anche l'ultimo file scaricato TGZ, e lui mi dice, ah vuoi installare questo firmware? Sì, perché no? Clicchiamo install e a questo punto aspettiamo. Ed ecco fatto, abbiamo aggiornato il firmware. Siccome siamo su Rockmaster e abbiamo appena aggiornato il nostro firmware, quello che dobbiamo fare è andare a cambiare o ricambiare il file extend underscore range.txt. Infatti quel file viene sovrascritto ad ogni aggiornamento. Se non sapete che cos'è andate a vedere il video della lezione precedente, ma bando alle ciance è possibile modificarlo direttamente dall'app. Per farlo dobbiamo abilitare delle funzionalità extra dell'app, quindi andiamo su Opzioni, Opzioni sperimentali, così tra le altre cose abbiamo anche accesso al File Manager. Clicchiamoci, andiamo a cercare il nostro file, che sappiamo essere su ext, subgeekers, assets, ed ecco extend range. Clicchiamo sopra, Edit. È false, noi andiamo qua, clicchiamo True, clicchiamo il check, fatto. Non dobbiamo fare altro, il nostro ROG Master è aggiornato ed ha anche l'opzione extend range modificata direttamente da app. Questo lo rende ovviamente comodissimo. Vediamo adesso per completezza come si aggiorna il firmware ufficiale attraverso l'app. Come sempre assicuriamoci di avere il Bluetooth attaccato sul flipper. Apriamo l'app e c'è questo bottoncione update. In questo caso, in americano vogliamo appunto installare una Release Candidate o una Development, ma tendenzialmente la Release va benissimo. La Release Candidate tendenzialmente dura un giorno. Diciamo che quella che è Release Candidate oggi, entro 24 ore diventerà una Release. Quindi va benissimo prendere la Release, clicchiamo Update e vediamo un po' che succede. Lui mi dice, ah vuoi installare l'update sia dalla 70, sia dalla 72, 1, sì. E la cosa bellina è che quando si aggiorna il firmware ufficiale ti dà anche il changelog con tutti i vari dettagli e così via. Ed ecco fatto, anche questo firmware è stato aggiornato. Andiamo ok e siamo dentro. Ora vi faccio vedere come è possibile controllare la versione installata del firmware. Ci sono due modi. Una è cliccare in basso per avere il Device Info e qui ci dà immediatamente i dati di questo specifico device. Oppure possiamo premere ok, andare su Settings, About, dare avanti, 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 Next e ci dirà anche la versione del firmware alla fine. Spero che questo video vi possa tornare utile. Intanto grazie della visione e continuate a seguirmi per altre scoppiettanti lezioni sul Flipper Zero. Grazie e alla prossima!